Raga, stasera sto con un paio di amici proprio VIP. Oh, sentiamo un po'... Te lo giuro che non ce la faccio più! Che sono una banda di massoni, sono rovinato! Non ce la faccio più! Sono qua! Sembro Beppe, ma in realtà assomiglio al molleggiato. Perché il molleggiato sembra... Ciao ragazzi, adesso lo so voi cos'è che pensate. Voi pensate, questo qua è il solito Celentano che viene qua a dire che lui è uno forte, uno simpatico e poi alla fine tira sempre fuori la solita storia. Aspetta, metto i capelli così perché è meglio. Vedi? Lui non ce l'ha così i capelli, però... E adesso voi dite, il Centale è uno che ogni volta che va in televisione fa crollare il governo e invece direte voi, tira fuori sempre la solita storia e invece la tira fuori perché fra poco non c'è più neanche, sapete che sono contro la caccia io, e fra poco non c'è più neanche un uccello in giro. Ve ne immaginate un mondo di uomini senza uccelli? E noi siamo rovinati, basta, vado via! Oh no, please in calling as an I chooser.